Grazie. Per cominciare sono stato invitato per discutere questo bel libro, di cui parleremo dopo, e sono stato invitato per dare un'introduzione su un tema molto importante, che è quello del furto delle terre e dell'agricoltura industriale. Ho pianificato dieci minuti, quindi ho bisogno anche di gente che dopo dieci minuti mi faccia così dal floor. Mi chiamo Luca Migiano e lavoro per Oxfam, che è una grande organizzazione internazionale che si occupa di combattere la fama nel mondo e le ingiustizie. Sono italiano ma vivo in Olanda e come lavoro mi occupo di diritti alla terra, quindi questo è proprio un ambito del mio lavoro. Noi supportiamo campagne e programmi per difendere i diritti alla terra. E oggi parliamo di agricoltura industriale e business da terra. Non so quanti di voi in realtà già sono familiari dell'argomento, quindi parto un po' dalle basi. Dal 2007-2008 c'è stato un forte incremento di transazioni e di acquisti di terre nei paesi del sud del mondo. Si tratta di acquisizioni fondamentalmente internazionali ma anche nazionali ed è un grande fenomeno. E' molto difficile da controllare tutti i numeri esattamente. Il database più informato su questo fenomeno che cito qui si chiama Land Matrix, parla di 42 milioni di ettari venduti a compagnie internazionali in paesi in via di sviluppo. Ma questa è solo la punta dell'iceberg, perché queste sono solamente grandi transazioni, quindi sopra i 200 ettari. Sono transazioni in cui è più importante la componente internazionale, quindi non viene considerata quello che succede con investitori nazionali. E si tratta solamente di un numero limitato di accordi, 1204, perché in molti paesi è veramente difficile avere accesso a questi contratti. C'è un grande problema di trasparenza. Quindi questi numeri, che già sono grandi di per sé, sono considerati come la punta dell'iceberg di un fenomeno più grande che è pressione commerciale sulla terra. Esistono delle differenze di potere, esistono delle risorse che sono legate alla terra. Il nostro modello di sviluppo preme su queste risorse, sulle persone che abitano su queste terre, in vario modo. In questo caso oggi noi parliamo di investimenti a livello internazionale. È un fenomeno che si è acuito dal 2007-2008, quando il valore della terra ha incominciato ad aumentare, per vari fattori, che poi parleremo anche nel libro, come per esempio l'introduzione degli agrocombustibili, c'è la possibilità di produrre energia da coltivazioni destinate potenzialmente anche al cibo, o la crisi dei prezzi del petrolio. Quello che è importante da dire è che questi contratti adesso stanno incominciando ad essere implementati, realizzati. Cioè la gente viene incominciata, in grandi numeri, a essere allontanata dalle terre. Quindi un fenomeno che anche noi parleremo è iniziato nel 2007-2008, in realtà è ancora molto nel vivo, soprattutto sul terreno. Gran parte di queste terre sono terre comunitarie, cioè terre che sono molto difficili da riconoscere, da gestire da parte dello Stato. I diritti non vengono riconosciuti, quindi fondamentalmente lo Stato fa finta, ovviamente con il settore privato, che queste terre siano vuote, però non sono vuote, sono terre in cui la popolazione locale sono sempre state e su cui godono dei diritti chiamati consuetudinari, cioè dei diritti sostanzialmente sono stati lì da sempre. E questo stesso database, nell'ultima analisi, dice una cosa molto inquietante, che solamente nel 14% dei casi di queste grandi transazioni c'è stato il consenso della comunità. Il consenso non è un termine giuridico in questo caso, cioè ci sono delle procedure per ottenere il consenso. Quindi tutto ciò che non è avvenuto in questo modo è sostanzialmente quello che in inglese viene chiamato land grabbing, cioè proprio il furto delle terre. Quali sono i motivi? Allora, ci sono vari modi per analizzarlo, il più semplice è perché cosa? La maggior parte è per agricoltura, ma non necessariamente per la produzione di cibo, ma per la produzione, come ho detto prima, di energia. Questo è molto importante perché noi stessi in Italia, ma in Europa soprattutto, abbiamo delle politiche molto forti di sostegno alla produzione di questi biocarburanti, che sostanzialmente, vedremo anche dal punto di vista climatico, ma sostanzialmente impediscono alla gente di produrre cibo per mangiare. C'è la produzione del legno e ovviamente, come ho detto prima, questo fa parte di un più grande fenomeno di pressioni commerciali alla terra che dipende da vari fattori. Il turismo, appena da poco stiamo lavorando su un caso di un resort che ha cacciato una comunità locale in Sri Lanka, un resort per surfisti europei praticamente. L'industria estrattiva, ovviamente le grandi compagnie petrolifere, anche i parchi che possono allontanare le persone, le energie rinnovabili e soprattutto quelle che vengono falsamente, che in realtà poi creano più CO2 di quella che dovrebbero togliere, e la speculazione. Soprattutto dopo la crisi dei prezzi c'è stato proprio un aumento del valore della terra e la cosa terribile è anche che questa terra non veniva necessariamente coltivata o portata a produzione, semplicemente veniva tenuta e poi venduta. Si potrebbero fare tante analisi, ma un aspetto molto importante è che queste acquisizioni di terra, queste transazioni, avvengono ovviamente dove c'è acqua. Quindi in realtà molti parlano di water grabbing, furto dell'acqua, cioè la maggior parte è attorno ai fiumi, ai grandi bacini di acqua. Ed è un fenomeno che non è solamente, questo penso sia molto importante per noi oggi, non è solamente Cina in Africa, anzi è una cosa molto diffusa, di pressioni internazionali. Qui scrivo dei cinque più importanti investitori, la Malesia, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, il Singapore e l'Arabia Saudita, però questo secondo questo database, quindi continuo a dire solamente la punta dell'iceberg. Però è un fenomeno molto, ed è spesso un mix di internazionale e nazionale. Non c'è bisogno penso di andare troppo nel dettaglio, poi c'è possibilità di fare delle domande se serve. Ci si può interrogare un secondo su quali sono le cause strutturali? Ho chiesto a loro il permesso di parlare un minuto delle cause strutturali, anche se penso che poi alla fine è una cosa molto importante parlare delle storie delle persone, perché questo ha l'impatto, è una cosa importante sulla vita delle persone. La prima causa strutturale è che questi diritti alla terra che vengono tolti, nella maggior parte dei casi, soprattutto in Africa, non sono ancora formalmente riconosciuti dal governo. Però questo non vuol dire che non esistono, vuol dire semplicemente che il governo per incapacità, per mancanza di strutture, di sistemi catastali, così non è mai riuscito, o in certi casi per pressione politica avversa, non è ancora riuscito a registrare tutte le terre, che è un passaggio fondamentale della costruzione di uno Stato democratico. In Italia c'è stata, abbiamo avuto le nostre riforme agrarie, molti paesi sono passati attraverso questa fase. Quindi ovviamente c'è chi si avvantaggia di questa situazione. In Kenya per esempio c'è voluto otto anni per avere una legge sulle terre comunitarie, semplicemente perché il governo voleva avere il tempo di fare le esplorazioni petrolifere, perché ovviamente te entri e le negoziazioni sono, cioè non ci sono negoziazioni ovviamente, se non ci sono i diritti riconosciuti. Quindi questo è il tema fondamentale, la mancanza di riconoscimento dei diritti alla terra. E stiamo parlando di terre enormi, cioè si calcola che per esempio solamente le popolazioni indigene, nelle comunità locali, diciamo proteggono il 50% delle terre emerse, ma hanno i diritti solo sul 10%, su un quinto di questo, sul 10%, quindi è veramente milioni e milioni di ettari che per vari motivi non sono protetti. E le cause strutturali, penso che poi vedremo dopo con esempi concreti, sono varie. La prima è veramente vasta, però non può essere omessa, che è proprio il modello di sviluppo, cioè un modello di sviluppo di cui noi tutti facciamo parte, che è estrattivo di queste risorse. E non solo estrattivo, ma ignora i diritti di chi è su queste terre. Cioè ancora prima di essere estrattivo, cioè è aggressivo. Si tratta di pressioni commerciali e finanziarie, e oltre a questo c'è un modello, soprattutto, e penso ne parleremo qua, con questo libro di agricoltura di larga scala. Quindi voi, non so, forse siete stati in qualche paese, immaginatevi queste grandissime distese completamente anonime e uguali di coltivazioni. Proprio distese che con la macchina per ore andate è sempre uguale, identico. E' proprio un approccio all'agricoltura, è proprio diverso, che è anche un'idea di società dietro che è problematica. Parleremo delle storie, e penso che oggi ci, ovviamente parlando di land grammy, parleremo del lato negativo, dell'investimento, cioè gli investimenti negativi, ovviamente. Per me era importante, anche perché immagino siete giornalisti qua, cioè anche mandare un altro messaggio, che allo stesso tempo, però, non bisogna dimenticarsi che gli investimenti sono importanti, perché molti di questi paesi sono paesi in cui la gente ancora muore di fame. Quindi in realtà la cosa importante è come fare l'investimento. Cioè il fattore chiave qua non è portare soldi in un paese anche attraverso il settore privato, il fattore chiave è la transazione della terra. Cioè si possono fare tanti investimenti, si investe nelle persone, nelle capacità, si investe nelle associazioni contadine, nei sindacati, nella loro abilità di entrare nel mercato. Quindi non è vero che questo è un dibattito contro gli investimenti, è un dibattito contro il furto della terra, che è un aspetto malato del concetto di investimento. Questo ne sono promesso. Perché questo ci riguarda? Spero di essere breve. Perché non è un problema degli altri paesi, è un problema nostro, perché questa pressione commerciale dipende da quello che noi consumiamo, da quello che noi votiamo e da come investiamo i nostri soldi. Ho messo una foto qua di una campagna che abbiamo fatto sui grandi brand come per esempio Coca-Cola o Mars e cose del genere. Loro per esempio la Coca-Cola prende, o altre compagnie, la Coca-Cola in realtà è una delle migliori, comunque tutta questa industria del cibo prende per esempio lo zucchero da questi paesi, quindi loro hanno una forte influenza su questi paesi. E c'è tutta un'economia che gira attorno a queste cose. Quindi per noi è molto importante consumare in modo consapevole. Votare, perché come ho detto ci sono delle leggi e delle norme, per esempio i sussidi che l'Europa dà agli agrocombustibili, che dipendono dai nostri voti, da quello che noi chiediamo ai nostri politici di fare. E investire perché anche le banche investono in progetti e quindi è importante sapere come investono. E questo è un esempio non del settore alimentare ma dell'oil molto recente in cui in America i Siu stanno combattendo per una grande pipeline di petrolio e questo è un esempio di una campagna che molte organizzazioni stanno facendo in Olanda, questa è Greenpeace su ING che ha recentemente detto che ha smesso di finanziare questo progetto. ING finanziava questo progetto, quindi i consumatori hanno fatto pressione affinché questa cosa smettesse. E l'altro elemento importante prima di concludere è il cambiamento climatico. si parla di ovviamente la prima cosa importante è la protezione delle comunità locali e del loro diritto al cibo. Il secondo aspetto è che queste comunità hanno un modello di sviluppo, hanno un'attenzione alla protezione dell'ambiente molto più alta ovviamente dell'investitore. Esistono studi molto forti soprattutto per quanto riguarda le foreste e oggi qua ci sarà un caso penso sull'olio di palma e la deforestazione in Indonesia in cui sostanzialmente conviene dal punto di vista del cambiamento climatico di riconoscere i diritti alla terra, alle comunità locali e ai popoli indigeni. Si tratta di un tema e ci sono vari studi anche della Banca Mondiale quindi insomma molto diffusi di un tema molto importante che sarà diciamo sempre più importante nei prossimi anni e questo per concludere prima di lasciare la parola è importante anche dire che esiste un movimento esistono movimenti che combattono contro questo fenomeno. Noi personalmente lavoriamo su un movimento che si chiama Land Rights Now che si occupa lavora con 550 organizzazioni nel mondo e quindi le persone sia nel nord che del sud del mondo combattono contro questa cosa quindi è molto importante è molto importante che se ne parli qui oggi con giornalisti proprio perché gran parte dei cambiamenti positivi in questo settore avvengono attraverso campagne e libri come questo e indagini giornalistiche che vanno a studiare attentamente i rapporti tra questi investimenti e i paesi di origine e quindi questo questo è la mia presentazione poi penso ci sarà la possibilità di fare domande ma adesso passiamo la parola ai protagonisti grazie buongiorno grazie mille per questa introduzione io sono Piotro Paolini lui è Simone Donati siamo del collettivo Terra Project giusto per darvi un'idea un'introduzione siamo un collettivo di quattro fotografi tutti e quattro italiani che da circa dieci anni lavorano insieme produciamo sia dei reportage individuali sia dei reportage collettivi quindi una vera e propria scrittura collettiva in fotografia quindi diciamo usiamo uno stesso stile visivo concordato appunto a priori e facciamo gli editing insieme creiamo un corpo di immagini che firmiamo come Terra Project quindi come se fosse un unico fotografo diciamo questo progetto che vi presentiamo che è diventato un libro la scorsa estate è realizzato proprio con questa metodologia quindi è un viaggio un po' in tutto il mondo in otto paesi circa è un'idea è un progetto appunto di ricerca e giornalistico che viene da lontano circa dal 2011 risalvo le nostre la prima idea insomma di questo progetto al tempo quando abbiamo iniziato non c'era un grosso accesso ecco ai dati di questo fenomeno ed inizialmente proponendolo appunto noi lavoriamo e produciamo grazie collaborando con riviste principalmente europee e statunitensi non c'era un grosso interesse all'argomento e anche noi effettivamente non avevamo ben chiaro la portata del fenomeno quindi ci interessava comunque questa idea di analizzare un po' gli investimenti di stati e multinazionali per acquisire terre in altri paesi lentamente poi il progetto ha assunto un po' dei caratteri un po' specifici quindi sul business e la corsa all'acquisto della terra che appunto dopo il 2008 è diventato un po' una nuova ricchezza un nuovo oro un nuovo bene rifugio anche e abbiamo focalizzato sulla produzione agricola nel 2012 abbiamo trovato finalmente il sostegno di Geofrancia che diciamo ha dato il via a tutta questa grossa produzione è stata solo la prima rivista che ha appoggiato il progetto che è anche una delle poche ormai in Europa che si può permettere di produrre lavori in giro per il mondo e abbiamo realizzato quindi i primi tre paesi visitando i primi tre paesi grazie a Geofrancia e da lì abbiamo iniziato a visitare lentamente altri paesi con l'appoggio di altre riviste e anche l'aiuto di alcune ONG che ci hanno magari aiutato sul campo o aiutato con con le spese il lavoro diciamo che è un'esplorazione ecco noi non siamo partiti con un'idea con un'idea precisa o con un messaggio ecco da dare sul sul fenomeno quello che ci interessava prima di tutto era andare sul campo appunto e vedere quali erano realmente gli effetti gli effetti in questi paesi e devo dire che come anche si diceva prima ovviamente abbiamo trovato un po' di tutto quindi sia da aziende che nonostante magari mantengono alcuni tipi di impatti come quello ambientali per esempio sono comunque più rispettose dal punto di vista sociale dal punto di vista del lavoro fino ad arrivare a imprese completamente pirata che quindi fanno del vero e proprio land grabbing quindi sottraggono illegalmente terra e utilizzano lavoratori nelle forme ormai appunto di schiavitù contemporanea appunto come come vedremo un po' nelle foto che vi mostriamo partiamo un po' mostrandovi un po' di foto e quindi raccontandovi un po' delle storie che abbiamo incontrato questo diciamo è stato un lavoro un po' complesso dal punto di vista visivo soprattutto la parte relativa appunto alle aziende quindi entrare all'interno di queste aziende molte volte non è stato semplice altre volte impossibile e soprattutto magari le aziende che ci hanno aperto le porte in alcuni casi sono un po' le aziende che avevano meno da nascondere ovviamente il primo paese che abbiamo visitato è l'Etiopia che è uno dei paesi in realtà più colpiti dal fenomeno dell'engrabbing e della svendita della terra anche dovuto appunto a un governo abbastanza debole e corrotto queste immagini già che scorriamo sono terreni della Saudi Stars che è una delle più grosse investitrici lì in Etiopia dell'Arabia Saudita per darvi un'idea appunto per esempio il primo campo di riso che avete visto era un campo da 10.000 ettari e la Saudi Stars ha un piano di sviluppo per 500.000 ettari quindi diciamo che questi sono di base i numeri di cui parliamo quando parliamo di investimenti di imprese in questi paesi si tratta di porzioni di terra di 100.000 ettari 200.000 ettari come minimo che vengono poi affidati in varie forme appunto la più diffusa è un diciamo un usufrutto per un tot di anni in Etiopia per la maggior parte dei casi sono concessioni che vanno dai 70 ai 90 anni e i prezzi di cui si parlava al tempo erano potevano essere 70-90 centesimi per ettaro anche tutta questa produzione è produzione che non tocca che non rimane nel paese quindi è produzione esclusivamente per l'esportazione gli impatti ecco diciamo se possiamo dividerli in realtà già citati appunto forse in due grosse macro categorie che sono quindi all'impatto ambientale quindi tutto quello che riguarda per esempio in molti paesi la deforestazione lo sfruttamento del suolo l'utilizzo ovviamente di agrochimici in grosse quantità e poi tutta una parte di impatti sociali quindi il dislocamento di comunità contadine ancora più grave comunità indigene che quindi vivono una relazione con la terra completamente diversa ovviamente dalla nostra le comunità indigene vivono in completa simbiosi con la terra la terra è la loro fonte di vita quindi una volta delocalizzati molte volte abbiamo trovato appunto comunità e posti dove chiaramente si perde completamente l'identità e i mezzi per sostentarsi questo impatto avviene anche sulla produzione contadina rurale e familiare perché questi sono modelli di sviluppo in completa antitesi il modello industriale e il modello rurale quindi l'uno quando arriva al modello industriale soppianta generalmente l'altro quindi spesso una cosa anche molto grave giustamente è che è vero che da un lato in alcuni casi l'investimento porta lavoro in altri casi crea più povertà perché un contadino che ha il suo campo comunque si può produrre il cibo quindi comunque mangia a un livello di vita una qualità di vita garantita anche dalla sua produzione una volta che un contadino gli viene tolto il proprio terreno dove può produrre in molta maggior parte dei casi deve andare a produrre per l'azienda quindi guadagnando magari qualche dollaro al giorno e con quei soldi probabilmente non riuscirà ad arrivare a fine mese per comprarsi il cibo quindi da una persona che comunque era in qualche modo magari più autosufficiente può entrare appunto in una fascia di povertà più bassa questo secondo paese siamo già passati in un altro continente aspetta torno indietro ad un'immagine questo è il Brasile ovviamente un altro paese molto molto interessante dove ci sono tante storie da raccontare di questo tipo questo è lo stato del Mato Grosso abbiamo visitato il Mato Grosso e il Mato Grosso che sono dei grossi stati di produzione appunto produzione agricola di grossa portata erano stati in cui c'erano comunque anche altri tipi di produzione ovviamente per esempio il Mato Grosso era molto famoso anche per le carni bovine che invece è stata completamente diciamo annullata la produzione qui viene coltivata principalmente soia canna da zucchero mais cotone anche qui in Brasile di cui parte per esempio la canna anche vengono usate appunto per come si diceva biocarburanti uno questa è una produzione di un campo di canna da zucchero una semina che viene effettuata con dei trattori guidati a GPS per questo vedete queste linee sono incredibilmente parallele questo è un ragazzo invece che fa parte per esempio di un collettivo che lavorano un collettivo diciamo appunto di movimento e di lotta contro queste grandi industrie loro avevano una piccola una terra di due ettari che coltivavano appunto accanto alla comunità in gruppo quindi abbiamo cercato di documentare da un lato la produzione industriale delle aziende dall'altro lato anche forme di organizzazione di resistenza contadina o comunque andando a vedere come vivevano i contadini intorno a queste grosse industrie il Brasile ha chiaramente una grande storia di conflitto per la terra è il paese dei semterra sempre è uno dei paesi latinoamericani con più concentrazione di terra diciamo di latifondo ecco quindi per esempio anche quest'altra foto è proprio un accampamento dei semterra temporaneo in città per il 17 aprile che è la giornata mondiale appunto contro il land grabbing quindi per esempio qui il conflitto sociale è molto molto acceso questo è Lucas Verde d'Orio che è una delle località dove si produce più soia di tutto il Brasile questa è una località a ridosso della foresta mazzonica nel Mato Grosso giustamente Mato Grosso significa grande foresta ormai non c'è una distesa piana di soia e soprattutto l'ultimo da lì inizia diciamo la parte il confine sud della foresta mazzonica brasiliana che si sta appostando leggermente sempre sempre più a nord ai margini appunto della foresta dove comunque abbiamo viaggiato lentamente la foresta viene mangiata generalmente la metodologia è dargli fuoco e successivamente occuparla con campi agricoli quindi ovviamente la perdita della foresta perdita dell'habitat per tutti gli animali che vivono nella foresta e l'habitat anche degli uomini delle comunità indigene comunità indigene che vivono appunto nella zona mazzonica in quella zona in particolare per esempio l'etnia Shingu che è a forte rischio questa è un'altra manifestazione sempre dei semterra e già qui passiamo invece nelle filippine quindi ridiamo di nuovo il giro al mondo le filippine anche da segnalare in particolare anche lì il livello di conflitto in questo caso oltre a grossi movimenti contadini il livello è diciamo molto alto nel senso che avvengono omicidi omicidi di leader contadini di leader del movimento molto di frequente quindi si tratta di un altro tipo di conflitto magari rispetto a quello del Brasile e questa è una manifestazione per esempio a Manila una delle cose interessanti è che qui in realtà la maggior parte di questi contadini e dei proprietari terrieri aveva addirittura dei certificati di proprietà della terra perché ovviamente uno dei grossi problemi relativi per esempio alle popolazioni indigene è che non possiedono un pezzo di carta che dice quella terra è loro perché stanno lì da generazioni da centinaia di anni in questo caso i contadini avevano delle certificazioni che in un anno appunto tramite delle leggi una legge del governo vennero annullati completamente quindi queste persone si ritrovarono con dei certificati che da quel momento non sarebbero più stati validi e il governo ha iniziato quindi a vendere la terra come vedete questi sono tutti i ritratti appunto di contadini a cui sono stati espropriati i terreni qui vai continua tu che si qua siamo in Ucraina che è il quarto paese che abbiamo visitato come diceva prima Pietro sono sette i paesi dovevano essere otto l'ottavo purtroppo che era i tre che abbiamo visto l'Ucraina poi abbiamo visitato il Madagascar l'Indonesia e Dubai l'ottavo era avevamo l'obiettivo di andare a documentare la borsa alimentare di Chicago purtroppo lì non abbiamo non siamo riusciti ad avere l'autorizzazione a fare delle fotografie all'interno della borsa alimentare crediamo proprio per il fatto che ci sia stata una volontà di non voler includere da parte loro di non essere inclusi in questo progetto per motivi che non sappiamo che non ci sono stati spiegati noi avevamo dei lavori commissionati per andare lì da parte di riviste sia italiane che americane pur avendo un lavoro commissionato non c'è stato dato la possibilità quindi questo è stato l'ottavo capitolo mancante tornando a quelli fatti l'Ucraina era un altro esempio importante di questo di questo tema viene considerato viene chiamato il granaio d'Europa proprio perché il grano è la cultura principale e qui siamo riusciti a fotografare proprio all'interno di alcune aziende controllate da fondi di investimento americani ovviamente anche qua come in tutti i paesi che abbiamo visitato tanti tentativi di avere l'accesso all'interno di queste aziende tanti no ogni tanto qualcuno ci diceva di sì e come diceva Pietro probabilmente perché non avevano niente da nascondere o comunque si sentivano tranquilli ad avere una persona che documentasse quindi in questo caso abbiamo raccontato proprio questo aspetto industriale questa è un'altra azienda sembra un po' un'astronave all'interno ma in realtà è semplicemente la zona di controllo di alcune macchine con la persona responsabile nelle nostre immagini abbiamo cercato di avrete notato alternare immagini di ritratto dove raccontiamo delle persone specifiche a immagini di più paesaggio questa è una contadina sempre per provare in ogni paese a raccontare i due aspetti la parte industriale è la parte più piccola diciamo dei lavoratori e dei contadini con un piccolo spezzamento di terreno in questo caso questa fa parte di di quello cioè una una contadina che si produce il suo formaggio e lo va a vendere una volta a settimana nel mercatino di un piccolo paese a un centinaio di chilometri da Kiev ovviamente noi qua vi stiamo facendo vedere una una piccola selezione delle immagini che poi sono finite nel libro dopo vedremo anche come è stato strutturato il libro che è proprio diviso nei vari nei vari capitoli ognuno ha un focus su un argomento e ognuno ha una selezione di immagini un po' più ampia di questo qui siamo in madagascar invece e qua abbiamo accompagnato una ONG italiana che si chiama Recommon che doveva realizzare un proprio report sul land grabbing in madagascar fatto da aziende italiane quindi loro erano andati lì proprio per raccontare tutta una serie di casi in giro per il madagascar di aziende italiane per poi fare uscire questo report che poi è uscito in cui noi abbiamo illustrato con le nostre immagini poi con dei video tutti questi casi la cosa la cosa interessante che abbiamo trovato qui in madagascar era uno di questi casi che ci ha colpito credo più rispetto agli altri che è quello di una zona del madagascar dove un'azienda italiana ha portato queste piante di giatrofa giatrofa è una piccola piantina alta più o meno così che poi serve per il biocarburante per poi fare il biocarburante la cosa molto negativa in questo caso era che questa azienda aveva impiantato parecchi ettari di suolo con questa giatrofa in una zona diciamo centro-sud del madagascar e questo aveva portato dei grandi problemi a tutti i villaggi che si trovavano lì perché questi villaggi diciamo gran parte di questi villaggi andava e qui ci sono delle immagini scattate a persone di questi villaggi che abbiamo visitato questi contadini di questi villaggi allevavano questi zebu che sono delle mucche un po' più grandi e da quando c'erano queste piante questi zebu non potevano più andare a pascolare liberamente se si provavano ad andare in queste zone coltivate con la giatrofa e portavano via qualche piantina o facevano dei danni a queste piante queste persone subivano poi dei problemi cioè sia di livello economico e quindi questi zebu non potevano più pascolare liberamente si ammalavano non mangiavano e ovviamente se poi morivano a queste persone gli mancava la fonte principale per il loro sostentamento quindi questa cosa aveva portato non pochi non pochi problemi qua passiamo ad un altro posto ancora che è Dubai Dubai l'abbiamo abbiamo scelto per un motivo molto preciso perché a Dubai c'è questa grossa fiera agroalimentare ogni anno che si chiama Agrame e quindi ci interessava raccontare ovviamente anche questo aspetto esclusivamente legato al al business e quindi siamo andati a fotografare sia all'interno di questa di questa fiera dove è una fiera quindi c'è chi compra chi vende chi mette in mostra i propri prodotti in questa immagine però abbiamo anche avuto l'occasione di visitare gli come si chiamano gli la parte i terminali all'aeroporto che si chiamano Sky Cargo degli Emirates quindi la compagnia Emirates che ha un proprio terminale esclusivamente dedicato al trasporto di prodotti come fiori ma anche frutta prodotti agricoli che arrivano molto spesso da l'Etiopia per esempio dove eravamo stati a fotografare quindi proprio un link diretto tra due stati che abbiamo visitato e quindi siamo riusciti anche a avere accesso a questo terminal della Emirates proprio dedicato a questo l'ultimo paese è l'Indonesia questo è un altro paese significativo come dicevamo prima abbiamo già citato la produzione di olio di palma che è un olio combustibile e quindi sia per viene usato sia per come biocarburante sia in una grande quantità di prodotti alimentari che probabilmente conoscete perché appunto questa cosa dell'olio di palma negli ultimi anni è esplosa tra i consumatori ora ci sono tantissimi prodotti che proprio citano non contiene olio di palma perché appunto si è iniziata a venire a conoscenza dei metodi di produzione e quindi l'Indonesia in Indonesia abbiamo focalizzato principalmente su questo tipo di produzione che è massiva cioè completamente in parti le isole indonesiane la maggior parte delle isole indonesiane sono completamente ricoperte di palme da olio di palma e anche qui l'impatto più forte ovviamente quello ambientale è la distruzione della foresta pluviale indonesiana proprio come in Brasile anche qui comunità contadine che vengono dislocate questi ragazzi per esempio vivono in una zona che si chiama Buol su un'isola che si chiama Sulawesi loro una mattina tutte queste comunità che erano circa diciamo composte da 600 persone una mattina si sono svegliati e hanno trovato i propri campi circondati da uomini armati questo è un caso forse uno dei più violenti che abbiamo documentato di vero e proprio land grabbing a meno diciamo l'azienda che si è instediata aveva acquistato dallo Stato circa la metà del terreno che poi ha occupato quindi è arrivata sul territorio ha preso con la forza il doppio del terreno che gli era stato concesso dallo Stato comunque è stato molto corrotto anche lì ovviamente che permette queste cose è un terreno di circa 22.000 ettari di coltivazione di palma dove prima loro coltivavano invece tantissime cose un altro aspetto diciamo è proprio l'impatto sulla biodiversità quindi la distruzione della foresta per impiantare un albero che quindi ovviamente ha delle conseguenze sul suolo per esempio la terra dove viene coltivata la palma d'olio ci mette per poter fare una coltivazione differente c'è un tempo di recupero che sono circa 30-40 anni per avere di nuovo perché la terra torni fertile in questo caso la maggior parte di questi abitanti molti sono rimasti nella propria comunità e lottano tutti i giorni nel vero senso della parola occupando le strade protestando rischiando la vita spesso ovviamente contro questa azienda e molti come quei ragazzi che avete visto nella foto sono andati a lavorare per l'azienda e si trovano a vivere all'interno del terreno in delle baracche molto fatiscenti in cui non c'è neanche acqua corrente queste baracche li vengono affittate dall'impresa e loro devono pagarsi tutti i materiali necessari al lavoro quindi gli stivali quindi se si rompe un qualcosa loro si devono ripagare e se lo ripagano indebitandosi con l'azienda stessa il salario è di qualche dollaro al giorno quindi quello che succede è che nella maggior parte dei casi a fine mese si ritrovano con più debito nei confronti dell'azienda di quanto l'azienda debba loro e quindi in qualche modo rimangono bloccati all'interno di queste piantagioni quindi questo quello che chiamavo appunto la forma di schiavitù contemporanea perché non sono minacciati con le armi di rimanergli a lavorare ma in qualche modo si ritrovano in situazione di essere bloccati all'interno delle aziende questa è un'altra signora appunto di quel paesino che mi ricordo appunto mi cantò anche delle varie canzoni di lotta e anche questa è una delle zone più conflittuali insomma che abbiamo visitato questa foto in particolare è proprio Buol ed è proprio la zona in cui prima la comunità che ho visitato aveva i suoi campi e adesso appunto è ricoperta di palme per olio di palma e produzione di olio di palma sì qua adesso vi abbiamo messo anche alcune delle pubblicazioni che sono state state fatte all'inizio Pietro citava come questo progetto è stato sviluppato avete visto il risultato ovviamente per per la produzione di questo lavoro il lavoro è stato fatto nell'arco di un anno e mezzo ogni paese è stato visitato una volta per circa venti giorni a paese quindi è chiaro che a livello di risorse abbiamo dovuto fare in modo che di avere proprio le risorse per aggiungere via via dei capitoli i primi tre per fortuna sono stati iniziati tramite un lavoro commissionato da Geofrancia e queste sono e poi la pubblicazione che è stata fatta da Geofrancia dopo la realizzazione dei primi tre capitoli ovviamente noi questo lavoro per noi era un lavoro che doveva essere più ampio volevamo come detto arrivare a fare almeno otto paesi due a testa e quindi via via che riuscivamo a rivendere una volta venduto a Geo il lavoro è stato rivenduto in Italia all'Espresso che è questa pubblicazione e via via che riuscivamo a rivendere il lavoro ad altre riviste investivamo le risorse di queste vendite per produrre nuovi capitoli fino ad arrivare ai sette finali quindi alla fine poi ci sono state delle riviste tra cui Internazionale per esempio sempre in Italia Mary Claire sempre in Italia Io Donna hanno poi ripubblicato il lavoro ed anche questa è una cosa anche abbastanza strana cioè il fatto che nello stesso paese qua in Italia lo stesso progetto sia stato pubblicato da varie riviste che per noi era la prima volta che succedeva di solito quando ci comprano un reportage è molto difficile che venga poi ripubblicato nello stesso paese anche a distanza di non troppo tempo comunque nell'arco di un paio d'anni e quindi ecco quello ci ha permesso di produrre tutto il lavoro e poi di riuscire a rivenderlo altre volte prima di arrivare al libro un'altra cosa da citare è che prima di fare il libro che poi c'è stato anche un altro altri due anni sono passati prima di arrivare al libro dalla fine della produzione siamo riusciti a fare una mostra di questo lavoro che sta continuando a girare anche in questo periodo che c'è stata prodotta da un festival di fotografia qua vicino a Cortona che è uno dei principali festival per la fotografia in Italia che nel 2014 ha prodotto la mostra e quindi poi successivamente siamo riusciti anche a portarla in varie altre città perché ovviamente anche l'output mostra per noi è stato molto importante comunque è un modo di arrivare a più persone di raggiungere persone che la vanno a vedere l'ultimo output è stato questo il libro il libro è uscito l'anno scorso tra l'estate e l'inizio dell'autunno in due edizioni qui ci sono delle immagini ma in realtà vi faccio vedere questo che si vede meglio il libro è stato prodotto da un editore francese che si chiama Interval se parte che si chiama Interval e che ce l'ha prodotto in due lingue quindi in francese ed in inglese nel libro non ci sono solo le immagini come dicevo prima è diviso in capitoli ogni capitolo rappresenta uno dei paesi ed ha un focus su un argomento ben specifico e tutto il libro è frutto di un'altra collaborazione non solo tra noi fotografi ma con una giornalista e con una designer la giornalista si è occupata di raccogliere per ogni capitolo un'intervista con un esperto della materia e ha curato ovviamente tutta la redazione di tutte le didascalie come potete vedere ogni immagine ha una didascalia anche a volte abbastanza grande si danno molte informazioni per ogni immagine e avete forse anche notato che ci sono anche delle infografiche quindi oltre a diciamo la parte fotografica la parte di testo c'è un livello ancora in più di informazioni che è quello delle infografiche una di queste è proprio riportata poi nel retro della copertina del libro ed è quella questo è il design del libro la copertina in realtà poi è una mappa questo è giusto per farvi vedere con la rilegatura così a vivo quindi questa è la mappa che si apre si toglie e qui rimane il libro appunto la collaborazione è partita circa un anno prima Cecilia Casnav è l'autrice diciamo dei testi la giornalista studio bureau è lo studio di designer che ha realizzato tutte le infografiche l'introduzione di di José Bové se lo conoscete quindi in realtà il team insomma è stato un ottimo un ottimo team e ha permesso di creare questo libro di cui siamo molto soddisfatti perché è un libro che contiene comunque tantissime informazioni quindi anche dati numeri però ecco in realtà è abbastanza scorrevole ovviamente con le immagini e i testi per noi che veniamo dal mondo della fotografia è molto interessante perché oggi come oggi i libri prettamente fotografici in realtà non hanno una grande distribuzione cioè si può produrre 500 copie 1000 copie diciamo sono libri che si rivolgono a un pubblico molto specifico quindi poter lavorare con qualcuno che scrive quindi la commissione per esempio tra fotografia e quindi fotogiornalismo e giornalismo scritto per noi è molto proficua perché comunque apre anche la possibilità di raggiungere un altro tipo di pubblico è un pubblico più 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 vasto questo è un libro che alla fine è un libro che serve un po' anche a che interessa e che stiamo vendendo molto a persone che non si occupano di giornalismo non si occupano di fotografia quindi è questo diciamo che magari più di cui più siamo soddisfatti quindi è un libro che introduce all'argomento e che diffonde un po' alcune informazioni su questo tema come mi piaceva molto quello che si diceva prima appunto rispetto al fatto che questo alla fine dei conti è un problema veramente nostro e che parte un po' dal nostro modo di vivere il nostro modo di alimentarci quindi tutto il tema in realtà della produzione di cibo è un tema molto interessante fondamentale e di cui ancora dobbiamo appunto indagare molto e scoprire molte cose così una ragazza mi ricordo un'altra presentazione appunto mi chiese se ci chiese se perché non portate quindi il libro la mostra in questi paesi dove avete realizzato il lavoro e appunto giustamente alla fine quello che invece in questo caso ci interessa di più è proprio portarlo invece nei paesi dove queste produzioni vengono consumate perché alla fine il bisogno del mercato nasce da lì quindi ecco è abbastanza urgente appunto essere sempre anche più cosciente di come funzionano i meccanismi di produzione di tutto ciò che consumiamo e il cibo ovviamente è una delle prime cose allora ci stanno facendo dei segni che dobbiamo concludere in meno di 10 minuti credo quindi se ci sono delle domande siamo molto felici di rispondere non so se c'è un microfono no non è acceso adesso forse sì mi sentite? sì perfetto innanzitutto complimenti bellissima presentazione bellissimo anche il libro non so se si può acquistare qui direttamente sì ce ne abbiamo grazie grazie della domanda mi interessa io mi occupo anche di tematiche che riguardano il cibo in particolare sto lavorando così su un progetto che per noi diciamo qui in Italia sembrerebbe avveniristico ed è quello del cibo da insetti non so se voi siete già posti il problema della corsa agli insetti che è già iniziata e che le multinazionali stanno preparando perché a partire dal 2018 poi l'Europa è già quasi pronta ma poi si parte no in realtà no sai poi appunto come dicevamo ci siamo concentrati sulla sulla produzione agricola per esempio quindi già tutto quello che è produzione invece per esempio di alimenti per esempio di carne non abbiamo non abbiamo toccato quello che può essere insetti quello che è molto interessante potremmo teneremo d'occhio la situazione però diciamo ecco tutto il fenomeno in realtà dell'angrabbing e di questo modello alla fine giustamente come si diceva del modello estrattivista per esempio la produzione agricola è solo è solo uno a pezzo perché appunto dopodiché un pezzo di cosa appunto di forse una nuova forma comunque di di appunto un neocolonialismo un nuovo modo di controllare un nuovo modo di essere proprietari di altri paesi o di guidare le decisioni che vengono prese in altri paesi quindi l'agricoltura gli insetti la carne le risorse l'acqua i pesci tantissimi sono in realtà poi i temi che si sviluppano con le stesse modalità creando un po' giustamente quello che poi è il nostro sistema di sviluppo di vita insomma ciao ragazzi grazie del lavoro presentato vorrei farvi una domanda quale strategia di lotta contadina locale avete notato che ha portato maggiori risultati cioè il governo e le imprese nei paesi stranieri utilizzano diciamo la violenza armata verbale fisica per avere diciamo il dominio sulle comunità locali dunque secondo voi quale tipo di lotta ha avuto i maggiori risultati per quello che vi riguarda a me il maggior risultato è stato quello zapatista utilizzando una lotta a politica e armata entrambe l'utilizzo della violenza non inteso come offesa ma come difesa che cosa ne pensate voi cioè cosa avete visto nella vostra esperienza qual è stato ripeto qual è stato il maggior risultato delle comunità da voi fotografate sai principalmente chiaramente allora riconoscersi l'organizzazione la creazione di rete c'erano reti mondiali lui aveva citato una un'altra grossissima è la via campesina che è un'organizzazione mondiale di contadini quindi quindi il percepirsi il mettersi insieme il fare rete in molti paesi appunto la lotta è più complessa che in altri perché in alcuni paesi come ho detto appunto c'è una risposta violenta quindi omicidi cose di questo tipo paesi interessanti ovviamente come ho già citato il Brasile dove la lotta dei semterra per esempio è forte non è una lotta armata in quel caso però è una lotta per esempio di occupazione di terra di costante martellamento di costante occupazione di nuovi terreni insediamento su terreni e conquistando nei decenni perché ovviamente anche quello è un movimento che è comunque in qualche modo una forza di come si dice non dialogo insomma di scambio col governo quindi riescono a ottenere delle cose questo diciamo per quanto riguarda quindi sul terreno quindi anche non necessariamente appunto lotte armate o di questo tipo chiaramente questo varia da paese a paese e il livello di conflitto che poi si ha con i governi dopodiché come si diceva probabilmente quello che anche può muovere di più il mercato e questi meccanismi sono anche poi lotte invece non nei paesi di produzione ma nei paesi di consumo probabilmente questa è come appunto l'olio di palma abbiamo detto ma si è uscita questa cosa l'olio di palma le persone qui iniziano a dire no ma allora io non lo consumo allora tutti hanno iniziato a togliere l'olio di palma dalle cose che ovviamente non hanno in realtà è una cosa che probabilmente non ha una grande coscienza è avvenuta così come l'olio di palma c'è altri centomila prodotti che fanno male uguale però comunque diciamo quello ha un impatto perché comunque è molto è sempre più importante proprio per chi consuma avere un po' l'idea e il controllo di quello che sta di quello che comporta la produzione di quello che sta mangiando quindi forse questo è un altro aspetto che oggi è molto importante l'altro lato della medaglia ultima ultima domanda io vorrei sapere che tipo di difficoltà avete incontrato nel documentare questo fenomeno perché immagino non sia stato sempre facile ottenere i visti o potersi muovere liberamente per documentare appunto un fenomeno che interessa anche le autorità dei paesi guarda in realtà le principali difficoltà sono venute per quanto riguarda l'accesso a queste industrie lì come dicevo prima su 20 con cui abbiamo provato magari in ogni paese ci hanno fatto entrare in una in due però per quanto riguarda altre problematiche noi per ogni per ogni lavoro abbiamo ovviamente fatto una ricerca antecedente trovando una serie di contatti una serie di persone sul luogo di organizzazioni di piccole ONG che ci davano una mano quindi in realtà poi il lavoro sul campo non è stato complicato a livello proprio pratico c'è stata però una fase complessa di struttura di ogni di ogni capitolo sul campo avendo poi diciamo steso una base di contatti luoghi da vedere persone da incontrare quello è stato poi realizzato non dico facilmente però non mi ricordo grosse problematiche lo ripeto la cosa principale è stata riuscire davvero ad avere degli accessi in posti chiusi che ci interessava documentare alcune volte è andata bene altre purtroppo no e quindi ci sono state cose che non abbiamo potuto fotografare fine in alcuni casi per esempio siamo entrati anche in delle aziende in modo senza avere autorizzazioni aiutati magari proprio dalle organizzazioni di contadini così quindi ok chiudiamo grazie grazie mille grazie mille e se volete abbiamo qua alcune copie del libro se sia chi è interessato grazie tagliato grazie mille grazie mille